Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho una bella pretesa, e cioè quella di voler rispondere a una domanda che sicuramente non ha una risposta molto facile, ma sulla quale dobbiamo ragionare un attimino. Ma oggi, nel 2022, conviene ancora investire nelle letture, nei libri, nei manga, nei fumetti? Beh, molto semplice, se guardate qui in basso a destra e leggete il nome del mio canale lo capite subito la risposta qual è. Leggo dunque sono, la mia risposta è ovviamente sì, sono eccessivamente di parte, ovviamente. Leggere aiuta tantissimo, aiuta a migliorare la nostra vita sotto tantissimi aspetti. Prima di tutto perché aumenta la nostra consapevolezza del mondo, perché ci fa entrare in contatto con delle realtà che altrimenti mai potremmo vivere e ci fa osservare la realtà attraverso gli occhi di persone che si trovano molto banalmente a centinaia di migliaia di chilometri di distanza da noi. Dall'altro lato, poi, inutile dirvi che la letteratura scientifica sui benefici che la lettura ha a porta sul nostro corpo, sulla nostra mente, sul nostro cervello, si spreca. Davvero, la lettura ha tantissimi benefici. E quindi sì, la primissima risposta è ovviamente sì, investire nelle letture, qualora ci sia la possibilità e lo spazio per tenere proprio fisicamente tutta una serie di prodotti, di libri, di fumetti, manga, quello che volete, ha dei vantaggi e sì, ne vale la pena. Questa domanda però può assumere delle connotazioni differenti nel momento in cui iniziamo a fare una prima distinzione tra una lettura digitale e una lettura cartacea. E quindi formuliamo in maniera diversa la domanda. Ovvero, ma conviene investire soldi nelle letture fisiche o digitali oggi nel 2022? Se così posta, la domanda assume sicuramente delle connotazioni differenti. Bisogna intavolare tutto un tipo di discorso che proviamo a fare, ma dividiamo i discorsi. Un discorso a parte va fatto per le letture fisiche, quindi per il recupero fisico dei volumi, e un altro va fatto invece per i recuperi digitali. Ci sono dei pro e contro in entrambe le strade e proviamo un attimino a fare chiarezza. Ricuperare in maniera fisica i libri, i manga o i fumetti ovviamente presuppone che uno, noi abbiamo dei soldi a disposizione, sicuramente una cifra superiore rispetto al digitale, perché di solito il formato digitale costa di meno del formato cartaceo, per ovvie ragioni. In secondo luogo, bisogna avere anche dello spazio a disposizione. Per quale ragione? Perché i libri, i manga, i fumetti occupano fisicamente dello spazio, quindi sacrificare spazio eccessivo per la propria libreria, per costruire la propria libreria, la propria collezione, in alcuni casi può essere davvero un problema. Cosa che invece non si presenta nel momento in cui si vanno a recuperare delle opere in formato digitale. Personalmente, siccome ho la fortuna di avere tantissimo spazio a disposizione, cerco di recuperare il più possibile delle opere cartacee, anche perché io sinceramente sono cresciuto con le opere cartacee e per certi tipi di opere, appunto, le preferisco di più in formato cartaceo anziché in formato digitale. Nonostante ciò, però, io mi rendo conto tantissimo che leggere in digitale ha tantissimi vantaggi. Prima di tutto, si risparmiano soldi. Secondo, si ha tanto spazio a disposizione perché avere un supporto fisico sul quale però leggere cose in digitale, che può essere per esempio un Kindle di Amazon, un iPad o comunque qualsiasi altro tipo di supporto, è una cosa che da un punto di vista pratico è molto molto comodo perché banalmente potete portarvi la vostra libreria praticamente ovunque, sui taxi, sui pullman, sugli aerei, sui treni, ovunque avete tutto a disposizione. Come se ciò non bastasse, però, avete la possibilità anche di poter accedere a quelle opere su tutti i dispositivi accedendo semplicemente al vostro account con le vostre credenziali. In più, come se ciò non bastasse, voi avete la possibilità di fare una lettura interattiva. Che significa? State leggendo? Incontrate una parola che non conoscete, per esempio, in un libro, in un testo? Molto semplicemente vi basterà tenere premuto sulla parola e di lì si aprirà un dizionario online consultabile in quel momento. In più, si possono prendere delle note, si possono fare tantissime cose che ovviamente sul supporto cartaceo è molto più difficile da fare. Il formato cartaceo, però, inevitabilmente ha un vantaggio enorme che il digitale non vi offre, ovvero la costruzione fisica di una libreria. Per chi come me è cresciuto sfogliando pagine nel corso della propria vita, costruire un tipo di libreria di questo tipo è una delle soddisfazioni più grandi. Prima di tutto perché i libri trovano una collocazione fisica all'interno di uno spazio e poi si conservano, vi fanno compagnia durante la vostra vita. Certo, se siete delle persone che si muovono spesso perché fanno parecchi traslochi, perché siete dei nomadi e quindi lavorate in parti diverse d'Italia o del mondo, in momenti diversi dell'anno, certo, questa scelta è ovviamente da abbandonare. Una cosa che potete fare se avete la possibilità di restare in un determinato posto per un determinato periodo di tempo. Nonostante ciò, però, non crediate che io acquisti tutto in formato fisico. Certo, ci sono delle cose che voglio avere in libreria, voglio avere nella mia libreria personale, quindi le acquisto in maniera fisica perché credo che meritino un posto nella libreria. Tantissime altre cose, invece, le leggo in digitale, proprio perché si tratta delle letture che voglio fare o voglio approfondire solo in certi momenti della mia vita, in certi periodi, ma che non mi interessa avere in formato fisico. Ovviamente, fare un tipo di discorso di questo tipo, da un lato, non vi permetterà poi di poter consultare sempre quei libri, quei volumi, perché molto banalmente non potete portarvi le vostre librerie a presso, cosa che invece, come vi avevo accennato prima, potete fare con un supporto digitale. Ma, nonostante ciò, per chi è cresciuto in mezzo ai libri, per chi è cresciuto in mezzo alle pagine, forse si fa anche un passaggio successivo, uno step successivo che col digitale, certo, si può fare, ma non è la stessa cosa. A che cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco semplicemente al fatto che costruire una libreria non è un puro atto di egoismo personale e quindi di soddisfazione del proprio ego e della propria voglia di comprare e di avere cose fisiche, perché molto banalmente i libri sono una cosa, i libri, i fumetti, sono una cosa che si ereditano. Vi parlo sulla mia esperienza personale. Io ho ereditato diverse opere, diversi libri, diversi saggi dai miei genitori, e il solo fatto che quell'investimento sia stato fatto 30 anni fa, 40 anni fa e che io oggi abbia la possibilità di leggerli è una cosa che da lettore davvero mi fa molto piacere. Mi fa piacere prima di tutto perché quel tipo di prodotto è passato attraverso le mani dei miei genitori o comunque di altre persone che prima di me si sono approcciati a quel libro. Quindi sì, un vantaggio del cartaceo è che vi dà un tocco di vissuto in più rispetto al digitale. Il digitale rimarrà sempre qualcosa di freddo perché nonostante si possano prendere degli appunti, si possano scrivere delle cose, non è mai la stessa sensazione che sfogliare un libro e sfogliare delle pagine. Poi per quelli più feticisti, diciamoci la verità, l'odore della carta ha il suo perché. Oggi ho provato a raccontarvi quello che è il mio modo di intendere le letture o meglio di intendere gli acquisti. Certo, tutto va declinato alla vostra personale situazione, alla vostra esperienza, alla vostra disponibilità di spazio e di soldi e ho provato quindi a raccontarvi un attimino come percepisco io le letture. Certo, se avete visto il nome del canale, ve lo ripeto, sicuramente vi sarete fatti un'idea. È bello, si tratta di cultura veicolata attraverso mezzi e tempi diversi, perché i tempi di lettura, ce lo siamo raccontati un sacco di volte, sono diversi. Ma nonostante ciò, il mio consiglio spassionato alla fine del video è questo. Se avete la possibilità, i soldi e lo spazio, recuperate il formato fisico, perché è qualcosa che si tramanda in maniera diversa. Se poi invece volete semplicemente leggere, volete acquistare cose e non vi interessa di tutti questi sentimentalismi intorno al mondo delle letture, fatelo e fatelo con il cartaceo. Eh, lapsus. Fatelo con il digitale. L'importante, è bene ripetercelo, è leggere. Poi, che si tratti di supporto fisico o di supporto digitale, alla fine dei conti, poco importa. Grazie se siete arrivati alla fine di questo video e mi avete fatto compagnia fino a questo punto. Io, come al solito, vi ripeto, se non siete iscritti al canale, vi piacciono i miei contenuti, iscrivetevi, attivate la campanella, in questo modo non vi perderete nessuno degli episodi che carico su questo canale e noi ci rivediamo prossimamente, nei prossimi episodi, nei prossimi settimane, non vi preoccupate, come al solito è tutto programmato e quindi ci sono un po' di cose che ci racconteremo. Ciao!